Vi ruberò pochi minuti per dire alcune cose che secondo me sono doverose. Innanzitutto il fatto che a fine della giornata qui risultano presenti attualmente un membro dell'opposizione mentre vedo che i banchi della maggioranza sono totalmente pieni e quindi questo mi lascia supporre che l'attività sia molto interessante però fino a che uno non ha altro da fare. Questa è la prima cosa, soprattutto i banchi del PD sono totalmente deserti, anzi ringrazio il consigliere Figliomeni che attualmente è qui con noi. Poi ritengo doveroso ringraziare l'assessore che è stato presente ininterrottamente in tutte le sedute del consiglio e questo già dà uno spessore alla discussione non indifferente perché se c'è un interlocutore questo diventa fondamentale per il proseguimento dei lavori. Tant'è vero che abbiamo anche interrotto per consentire ai consiglieri di seguire la conferenza stampa di oggi sulle partecipate della sindaca alla quale era presente anche l'assessore. L'altro ringraziamento lo faccio ai colleghi di maggioranza che in questi giorni stanno lavorando in una maniera incredibile su tutta una serie di tematiche importantissime. Non voglio ritornare sul discorso della mancanza di programmazione e di visione del futuro della città che c'è stato nel passato. Perché? Perché i risultati li abbiamo sotto gli occhi. Questo è uno scempio che il collega Presidente della Commissione Bilancio ricordava descriendo le nefandezze delle precedenti amministrazioni ci hanno lasciato e questo è il punto di partenza. Già nelle periferie noi vediamo delle cose, degli interventi, per esempio su via di Torbella Monaca in questi giorni hanno sfalciato degli alberi di 4 metri che erano cresciuti al centro della careggiata, nello spartitraffico. Quindi alberi che erano minimo da 10 anni lì sono stati tagliati, via di Torbella Monaca è tutta pulita e questo è già un segnale. Questi sono fatti che verranno a moltiplicarsi sempre di più e questo bilancio che, come diceva giustamente l'assessore, dopo 10 anni si vota nell'anno precedente a quello di competenza, quindi rispettando la normativa ed evitando che ci siano gestioni in dodicesimi che poi, come abbiamo visto nel passato, spesso e volentieri erano frutte dell'emergenza, l'emergenza sulle buche, l'emergenza sui rifiuti, l'emergenza su un sacco di cose e spesso si trascinava anche con dei debiti fuori bilancio che oggi ci troviamo come collettività sul gruppone. Per chiudere, per non essere troppo pesante, anche perché la giornata è stata lunga, ricordiamo il debito che è praticamente un macigno su quello che è la gestione di Roma, gli interessi che sono una cosa fuori ogni immaginazione. quindi la città di Roma forse è proprio il momento che si sveglia perché quello che stiamo facendo è rivoluzionario sotto tutti i punti di vista perché riuscire a recuperare una città dalle condizioni in cui è stata lasciata è un impegno immane, quindi questa non è una responsabilità della maggioranza, è una responsabilità di tutti i cittadini romani e forse l'unico sistema per uscirne è proprio questo, che tutti i cittadini romani cominciassero a controllare i lavori se sono fatti bene, partendo da ripristino delle buche, perché spesso nei municipi c'è una mancanza di personale, spesso il personale negli uffici è stanco di subire anche un trattamento inadeguato, ci sono problemi di turnover che stiamo affrontando, ci sono state assunzioni, cose che non ho mai visto nel passato, questa è la realtà, quindi quando c'è qualcuno che magari qui si diverta a fare lo streaming e inquadra i banchi dell'opposizione, anzi della maggioranza che erano magari impegnati in altro, si ricordasse di venire a fare l'intervento alla fine del consiglio e di vedere i banchi dell'opposizione totalmente vuoti a parte dell'unico consigliere di opposizione presente, quindi ricordiamoci tutti che siamo cittadini romani che dobbiamo risollevare insieme questa città. Grazie.